Cari amici vicini e lontani, buonasera, come diceva un grande della comunità... Radio cronista da Firenze, da Firenze, Nunzio Filogamo, da Firenze, non era da Firenze, era toscano finantino, Nunzio Filogamo, dal vizietto, aveva anche un vizietto, però era un grande, diciamo, esemplificato dal grande Ugo Tognassi, esattamente, che poi il vizietto Ugo Tognassi non ce l'aveva, no, assolutamente no, al contrario, aveva 18 figli, non sono 5 conosciuti e altri no, ma una vendicina di figli ce l'aveva, esatto, e faceva bene alle straniere attrici, non solo, ma soprattutto tenendo conto che oggi, in questa carenza di natalità, i figli di Tognassi sarebbero stati ancora di più utili qualora Tognassi fosse sopravvissute alle sue imprese. E no, ci è rimasto nella sua impresa, quindi diamogli l'onore delle armi. Esatto. Allora qui prendiamo l'esempio da un testo, recentemente dal sottoscritto recuperato, da cui sfogliando così, come va la mente, come va, va, perché il principio è quello, ricordiamoci, ricordiamoci che si insegna, cosa si insegna? La religione biblica, che tu come apri la Bibbia, trovi sempre il messaggio che ti serve in quel momento. pregnante, sempre. Ad esempio, devi andare a cesso e leggi il versetto 20.5.8 e ti dice come si defeca. Esatto. Ti dice sempre molto attenti a non scorreggiare troppo, lo dice la Bibbia e quindi noi siamo perfettamente allineati. Allora, anche perché ricordiamo sempre che la Bibbia dice tutto è il contrario di tutto. Posto che lo dica, glielo fanno dire, sono loro che lo fanno dire, mica io. Per me, se la dice... Come dice il nostro caro esimio e greggio amico e consulente Mauro Biglino. Sì, che dice che quello che c'è scritto sulla Bibbia e quello che ci fanno leggere, sono pure cazzate e dà perfettamente ragione. Allora, sotto tutti i profili, tu storico, geopolitici, antropologici, archeologici, eccetera, eccetera. Allora, qui c'è un articolo che è stato pubblicato il 27 luglio 1974. Ripeto, 7-4. Dal grande? Indro Montanelli. Le buone notizie di questo... Personaggio molto scopodo sia a destra che a sinistra. Sì, esattamente. Ruvido, ruvido. Sì, con tutto che praticamente non era poi questo granché di rivoluzionario, ricordiamocelo bene, però abbastanza scopodo, perché lui si riteneva, ed ero era, e nei fatti lo è stato, è stato l'ultimo interprete della grande sfida fiorentina che ebbe... Del ventennio, che partì dal ventennio del novecento, con i grandi filosofi, i grandi versolari. Che anticipò il ventennio. Sì. Con Prezzolini, Papini, Soffici e tanti altri che crearono proprio quel clima rivoluzionario e fermentoso, che diede vita a tutto un movimento di pensiero. Voglio ricordare Viani, Alberto Viani, uno dei più grandi scrittori e pittori d'Italia. Mi limito semplicemente a queste quattro o cinque personalità. Arturo Reghini, che facevano parte di quella congrega che si riuniva in un particolare caffè che si chiamava Le Giubbe Rosse. Allora, adesso vi leggo... Che non poi esiste più, eh, diciamo. No, no, c'è, c'è. C'è ancora. Dove? Le Giubbe Rosse nel centro di Firenze. Non me lo ricordo io. Se tu vai nel centro di Firenze, vedi che c'è questo caffè che si chiama Le Giubbe Rosse. Dopo vi faccio vedere, cari amici, una cartolina che acquistai proprio alle Giubbe Rosse per farvi capire che quello era un posto dove c'era della gente che era veramente particolare e soprattutto controcorrente. Ma adesso vi voglio leggere questa... come dire... questo piccolo commento che faceva parte dei commenti che faceva Indoro Montanelli sul giornale. Il commento è del 27 luglio 1974. Attenzione... Il periodo in cui c'era il blocco della circolazione domenicale dovuta al blocco della crisi dell'OPEC dell'epoca. Mi ricordo benissimo quel periodo. Allora, attenzione, perché questo... guardate, lo devo dire... ho preso questo libro perché mi sono riproposto per questo video di prendere un libro e di trovare qualcosa. Come ho aperto ho trovato questa pagina, pagina 34, pagina 34, tu vedrai l'importanza di questa pagina, comprese gli amici. Attenzione, perché per me è fondamentale, guardate ragazzi, io mi identifico completamente con questa pagina. Le buone notizie di questi tempi sono così rare che sottrarsi al compito di registrarle sarebbe poco meno che delituoso. Questa ce la segnala per telegramma uno sconosciuto lettore... Da ricordare che esistevano i telegrammi all'epoca. All'epoca, adesso non c'è più niente, fra poco non esisterà più niente. telegrammi all'epoca, caramella, mandarino, e poi? Eh, non me la ricordo. Manco io. Mortadella. Mortadella. Eh. Caramella, mandarino, mortadella. Per esistificare la sintesi del telegramma. La grandissima sintesi di un atto ruttuoso. Questa ce la segnala per telegramma uno sconosciuto lettore, dice sconosciuto lettore che poi dice il nome, l'avvocato Enzo Filippi e ci auguriamo che si tratti di un nome e di un fatto veri. L'altra sera in un albergo di Sanremo si sono casualmente incontrati il figlio di Mussolini Romano, e questo non mi stupisce, essendo Romano, avendo vissuto Romano come pianista di un compenso jazz, e il figlio di Matteotti non sappiamo se Matteo o Giancarlo. Tra parenti io ho conosciuto Matteo. C'è anche lui il jazzista o meno? Io ho conosciuto comunque Matteo, che mi piacque molto tra l'altro, scagionò completamente Mussolini dell'assessina del Palma. Ma credo, ma era palese, era evidente. Tanto variva che lo dicesse. Era la prima volta che si trovavano di fronte e si sono stretti la mano. Ma lì sappiamo bene che Matteotti fu ammazzato dal re, dall'emissario del re, che non voleva che si sapesse che l'amico, quello che fa... Che ci facesse unificazione tra il partito fascista e il partito fascista. No, ma soprattutto, no parliamo dei soldi, soprattutto che venisse fuori la scoperta, la scoperta di quella grande scalatore che scalò il K2, non mi ricordo mai come si chiama, Ardito Tezio, che da geologo aveva scoperto nella Tripolitania le riserve di petrolio che oggi la B12 va a scavare. che sono state all'origine della guerra che l'Inghilterra ha fatto all'Italia nel Nordafrica. E certo, e certo. Era sempre di soldi, parliamo. La storia è fatta sui soldi. Di volgare moneta. Era la prima volta che si trovavano di fronte e si sono stretti la mano. Siamo d'accordo? Non per questo la Lira smetterà, attenzione, perché questi sono i punti essenziali, capisciate, siamo d'accordo, non per questo la Lira smetterà di deprezzarsi. Ma magari proseguero la Lira e si deprezzasse, eravamo la terza potenza mondiale con questo progetto. E i capitali di sfuggire all'estero e le poste di mandare al macero le nostre lettere. non dimentichiamocelo. Quella stretta di mano non ci libera dai nostri guai, ma in compenso ci offre la consolante certezza che in questo depauperato e malandato paese ci sono ancora intatte cospicue riserve di umanità e di civiltà. Le due materie prime che a noi, poveri, incompetenti di politica e di economia, stanno più a cuore. A noi non ci stanno più a cuore. A noi proprio queste competenze, queste bontà, di cui io tratterò ampiamente in testi di questo tipo, ad esempio guardate questo, e dei testi che riguardano la nascita, lo sviluppo. Non è a caso, io ho parlato delle rete e parliamo sempre di un quarto secondo. E l'ombra del rete. O Vittorio Menele IV. No, no, questo è l'ombra del rete. L'ombra del rete, per dirlo in Toscanazio. C'è un'altra battuta che è del luglio, 18 luglio 1976, che vale la pena di leggere. Sempre di Indro Montanegna. Sempre. Abbiamo tentato di ramaricarci per il fatto che gli africani hanno abbandonato in blocco le Olimpiadi. Ma non ci siamo riusciti. Il fatto è che abbiamo sempre riconosciuto a piena validità alle tesi degli anticolonialisti, secondo cui il più grave disfatto dell'imperialismo bianco è stato di sovrapporre a quelle indigene contaminandole una civiltà ad esse estranee. E' strane. Ricordatevi quello che leggo qui in relazione a quanto sta cedendo oggi in Italia. Al contrario, esattamente, è una colonizzazione al contrario. Esattamente. Da parte però del potere economico finanziario. Esatto, non dei negretti, dove arrivano senza arte né parte, ma da parte di chi li manda e comanda qui. Qui li prende, li assume, li mette nelle navi, li porta qui e, con la complicità di un'organizzazione di delinquenti, è vero, li impone al popolo italiano. Le Olimpiadi fanno parte di questa cultura o almeno delle sue convenzioni. Perché costringere i popoli del magico a condividere lo spirito illuministico di una festa sportiva che l'antica Grecia concepì come moratoria a tutti gli odi e divisioni... E le guerre. Interrompevano le guerre anche generali per le Olimpiadi. Essi sono i figli di un'altra cultura, ugualmente rispettabile, ma che non è la nostra. Il rasfismo è una cosa, è una brutta cosa. La confusione di culle, un'altra non meno brutta. Le culle nostre, devono essere nostre. Queste sono frasi profetiche, profetiche, veramente profetiche, che io mi sento di sottolineare del 18 luglio 1976 e siamo solo a questo punto. E poi dicono che c'è un rallentamento dei tempi. Quali tempi? La realtà di allora è la realtà di oggi. Adesso dico quello che volevi dire, perché c'è una cosetta qui che è bella che c'è. Beh, allora, noi abbiamo parlato in varie occasioni... Guarda, non c'è solo questo, sono tutta una raccolta di... Non lo so, però non c'è dubbio che sotto c'è talmente tanto che andando a scavare è sempre più merda puzzolente si trova. Sì, vabbè, d'altronde... Allora, qua parliamo sempre del signor Vincenzino Scotti, eccolo qua. Don Cristiano Doc, ministro e viceministro in vari governi Andreotti e compagni. Specifichiamo ministro dell'interno quando ci fu una fase di prevalenza della Camorra sulla mafia per cui ci fu un ministro dell'interno che era napoletano contro ministri dell'interno che erano sicuri e questo è stato l'unico momento in cui la Camorra ha avuto il sopravvento sulla mafia, ricordiamocelo bene. Ecco qui tre fotografie significative pubblicate su questo quotidiano. Eccoli qua. È uscito fuori una spirale di potere che noi, io e Orazio, avevamo a suo tempo individuato perché trovandoci casualmente in un certo ufficio e vedendo certe facce che stavano lì, di studenti, di pseudostudenti, di segretario, di quant'altro, riuscimmo a capire che lì gattaci covava. Adesso continuo a lasciare la parola a Orazio perché l'argomento è di grande interesse. Allora, premesso che io non ho letto il giornale della verità e non lo leggo da giorni oramai per vari motivi perché sono stato preso da tantissime ambasce non gravi ma insomma abbastanza catturanti, diciamo così, ecco, come si dice, non catturanti, come si dice? Prevalenti! Prevalenti, ecco, diciamo, premini. Allora, qui abbiamo parlato in varie altre occasioni del coinvolgimento di vari personaggi in certi ambiti, abbiamo parlato dei cavalieri di Rodi in particolare, ma anche il secondo ordine da non dimenticare, i cavalieri di Malta con anche gli spitalieri, ospitalieri, se vogliamo andare. Quindi vari ordini di depredatori delle ricchezze dell'impero d'Oriente quando nel 1254 assalirono Costantinopoli e la depredarono come fecero i Coti di Alarico qua a Roma nel 409 d.C. Noi l'abbiamo fatto nel 1254 ma abbiamo depredato tutto quello che ci era da prendere e questi depredatori non erano gente qualunque, erano principi, conti, cavalieri di vario ordine e grado che poi si sono riuniti in varie consorterie, in particolare tre, cioè quella degli spitalieri, dei cavalieri di Malta, cavalieri di Rodi e c'era un altro cavalierato che non mi ricordo più. Vabbè, mettesi anche i templari. I templari, i templari che avevano, giusto, erano quello più importante, non mi veniva. I cavalieri del Tempio. Loro infatti avevano depredato anche il Tempio in senso ampio e lato, come si dice. Allora, insomma, che cosa è successo? Che avevano fatto in man bassa di tesori inauditi che poi tornati negli anni successivi in Europa, in Occidente, hanno cominciato a investire in operazioni bancarie, in particolare bancarie, ma non solo, insomma, acquistando feudi, acquistando titoli nobiliari e così via. Non acquistando, conquistando. Conquistando, conquistando, insomma, in vario modo. E quindi, nel corso dei secoli poi ci sono state tutta una serie di vicende che sarebbe veramente impresa improba andare ad analizzare in poche parole, perché è veramente talmente coinvolgente in episodi di ogni genere, non so dire, a cominciare dalla notte dei lunghi coltelli, esatto, dei lunghissimi coltelli, di Luigi il Bello, no? Luigi il Bello, che a un certo punto si era reso conto che c'aveva in casa una mazzata di delinquenti che cercano di farlo fuori, prima che mi fate fuori voi, vi faccio fuori io. Seguendo il mito di Ulisse, certo, e soprattutto il dettato dei grandi papi dell'evole, a cominciare mi pare di Enrico IV, se mi ricordo bene, sì, Enrico IV, se mi ricordo bene, comunque fateci venia se qualche volta sbagliamo qualche data, perché insomma noi improvvisiamo, insomma non è che mettiamo le cose dopo essercele studiate e preparate a puntino, quando facciamo le conferenze facciamo così, ma qui non siamo in una conferenza, quindi parliamo a braccio. E quindi oggi, non so se è di oggi il suo giornale, è di oggi? Il giornale è di sabato 9 novembre. Sabato 9 novembre, va a richiamare alcuni eventi che noi avevamo già in qualche modo analizzato tempo fa e qui c'è in prima pagina un capo dei servizi segreti italiani di Sascotti di far sparire Mif Sud, che è Mif Sud, è un noto professore di questa notissima università che era anche un grande spione, diciamo Link Campus, che viene accusato dai nobilastri cosiddetti democratici del Parlamento americano che dicono che il nostro caro presidente americano attuale, Donald Trump, è diventato presidente attraverso gli artifici di questa lobby, diciamo così, sotterranea. che avrebbe pagato russo, americana, italiana, come se non ci fossero mai stati, come se mi viene anche a ridere. questi accordi internazionali, da 200 anni a 200 anni, a questa parte, non ci fossero mai stati. Va bene, allora insomma mi viene anche a ridere, come diceva un noto caomico dell'epoca, non mi ricordo più come si chiamava, e praticamente adesso qui fa il pelo e il contropelo l'amico, come chiama il direttore della verità, non mi ricordo mai, Belpietro, che appunto ricapitola e reitera, diciamo questo argomento. Ma fai vedere anche degli altri che ti avevo messo lì, perché la questione è una questione molto grave, cari amici, perché questi continuano a rompere dei coglioni dicendo un sacco di cazzo, ecco qua, e qui c'è scritto tutto, ecco qua, questa è un'altra, ma questo è solo uno, e guardate qua, cioè qua ci sono intere pagine, diciamo... No, questo risulta, risulta, è nascosto a Matelica, eccolo qua, Matelica in provincia di Macerata, nelle Marche, dove trovarono il tesoro, il tesoro nascosto sotto terra, quello in oro, un tesoro enorme, che cazzo di fin ha fatto quel tesoro? Ah, non si sa, non si sa, non si sa... Oh, erano quintali d'oro, c'erano armature intere d'oro, quel tesoro misconosciuto, non ne parla mai nessuno, parliamo di quintali e quintali d'oro in opere d'arte, in piatti, vasellami, statue, armature... No, ma lì ci hanno messo, ci hanno messo, l'hanno praticamente a Mifsud, che gli hanno fatto? L'hanno scarnificato, l'hanno trasformato in capro espiatorio, uno dei capri espiatori... L'hanno messo insieme a quel tesoro, cazzo lo sai tu che cosa fanno i preti, e poi che cosa trovarono, racconta, e adesso vado a prendere un'altra cosa, racconta agli amici i tesori in volgari dollari, che da quelle parti circolavano, perché lì, oh Matelica, siamo due parti, da dove fu trovato... Che vuoi dire? Io non lo so che fine ha fatto questo tesoro, lo sono toccato da te... Sì, il tesoro, lascia stare questo tesoro che non si parla... No, di cui non se ne parla mai, nessuno dice un cazzo di niente, ha un tesoro di... Altro che il tesoro di... Sto parlando dei beni... Le casse di oro, di Mussolini, di... Il tesoro di... Il tesoro di... Di Dongo... Dongo, ecco, scusate, non mi veniva la parola... Sì, no... Dongo, che... Allora, il tesoro di Dongo si sa quasi tutto oramai, ma di questo tesoro qua, che è diecimila volte più importante anche sotto il ritrovamento storico, culturale, artistico... Oh, parliamo del tardo impero, parliamo della fine dell'impero romano... Io sto parlando, a questo punto, di un altro tesoro, dei buoni del tesoro statunitesi... Ah! Che circolavano da quelle parti... Ah, è vero! Aspetta, qui bisogna entrare nel dettaglio... Sì, vado a prendere una... Allora, a partire... Allora, tutti parlano delle crisi periodiche che assalgono, come se fossero delle influenze, delle febbre influenzali, che assalgono le borse internazionali e poi i mercati internazionali in generale e poi le economie industriali, economico e commerciali dei vari stati. La cosa incredibile è che nel corso di... Oramai, molti decenni, per non dire secoli, oramai è diventata una metodica strutturale, è diventata una metodica ampiamente studiata e, diciamo, individuata nelle sue fasi essenziali, quindi scomposta anche nei suoi elementi essenziali, per cui oggi l'economia e la finanza dovrebbero prevedere tranquillamente, senza nessuna difficoltà e senza nessuno sbalzo, nessuno contraccolpo di nessun genere, le crisi finanziarie o monetarie, economiche e quant'altro dei vari stati. Invece questo non avviene, ma la cosa incredibile è quello che adesso sto per raccontare, che Giorgio confermerà, praticamente nel 1939, bisogna andare un po' indietro, bisogna ritornare alla guerra del Kuomintang, del Kuomintang, perché bisogna ricordare, che cazzo c'entra il Kuomintang con questo, e ora ci arrivo, perché come dicevano, un frullo d'ali di farfalla in Oriente, non è che lo diceva, lo diceva Einstein, ma è vero, crea un vortice, uno tsunami in Europa e in Occidente, e viceversa. Che è successo? Quindi quando ci fu i prodromi fin dall'inizio, a partire dal 1905 e poi successivamente della guerra cino-nipponica-rusta e poi la guerra civile cinese all'interno, a partire dal 1915 in poi, di Chiang Kai-shek contro Mao Zedong, ambedue cognati, no, cognati tra di loro, tra di loro, allora il bello è, sì, mariti di sorelle, allora, un po' estroverso queste sorelle, no, diciamo, vabbè, allora, la cosa incredibile è che attorno al 1925 qualcuno del Kuomintang, cioè di Chiang Kai-shek, della fazione di Chiang Kai-shek, pensò bene di finanziare la guerra interna, la guerra sociale, ovvero al loro civile cinese, con l'acquisto di buoni del tesoro americani, cosa che avvenne nel 1932, nel momento in cui la borsa di Wall Street era al punto più basso in assoluto da quando esiste. Quindi un esponente, non entriamo nel dettaglio perché sennò saremo qui tre anni, un esponente del Dragone Giallo, che era la mafia, ed è la mafia cinese più potente, perché ce ne sono varie mafie anche là, quella che fa le trattative con la mafia italiana, per gestire la situazione italiana. E' certo, e' certo. Allora, anche perché adesso ormai le mafie si sono sostituite ai governi, come possiamo constatare giornalmente. Esattamente, bene che i colleghi che ci stanno seguendo lo sappiano, e lo capiscono. Allora, le mafie quelle vere, intendiamo, non le mafie così, diciamo, teoriche, ipotetiche. Allora, questo emissario del Kuomintang, il Dragone Giallo, andò a New York, portò una serie di bauli di oro raccolti nelle varie fasi della donazione o depredazione, a secondo delle situazioni, durante il grande percorso della guerra di movimento che ci fu all'epoca. ricordiamoci la grande marcia che è esemplificativa della guerra di marcia che fu svolta in quegli anni. La cosa incredibile è che questo emissario comprò un certo numero, una enorme quantità, perché non valevano un cazzo i titoli buoni del tesoro degli Stati Uniti, e quindi fece incetta di una quantità enorme, che poi l'ho dopo ad ombro, di titoli di Stato, che però, per una serie di circostanze che non è il caso di andare a divinitare qui, fra mafie, la lobby ebraica, la lobby sicuroamericana, le lobby di varie del genere, sia cinesi, quella giapponese addirittura c'entra, quella russa addirittura, qui parliamo sempre e soltanto di mafia. Di potere reale, cari amici. Queste si spartirono il malloppo, non entriamo nel motivo del perché si spartirono il malloppo, e incredibilmente quando Frank Tredita e tutta la sua acquigliassa arrivò a Cassibile e firmarono insieme alla mafia italiana, Andreotti, i Fiat e quanti altri, la… Bernardo Mattarella, padre compianto del presente… Quanto compianto, io sto sempre a piangere! del compianto attuale figlio e presidente della Repubblica della Giovanna, questi signori si spartirono il malloppo e incredibilmente entrarono in Italia una marea di titoli del tesoro americano del mille, tutti datati, 1932. Nel 1939, c'è una canzone. Allora, noi perché sappiamo queste cose? Perché ci sono arrivate tutta una serie di informative perché sappiamo… Arrivarono a te soprattutto! La gente sa che noi… una anziana signora si rivolse a te… Le denunce le facciamo, le pubblichiamo anche a rischio delle nostre palle, per non dire altro… Sì, soprattutto palle perché danno fastidio a certi nostri amici che le palle non ce le hanno e le vogliono invece per il fatto. Allora, niente, una signora, un'anziana signora ci coinvolse un badante, anzi una famiglia di badanti, di un'anziana signora di cui noi abbiamo nome, cognome, estratti conto, dei conto di correnti, tutto quello che c'è da sapere sia dell'uno che degli altri due, fui contattato 10, 12, no no, 15 anni fa, 15 anni fa, da questo marito di questa famiglia che faceva da badanti a questa anziana signora che era l'erede, figlia di uno dei grandi commì esponenti della mafia del gruppo di Frank Tredita, il quale aveva giustamente portato in patria una serie di bauli di titoli del tesoro, oltre che a soldi ovviamente che aveva fatto con la mafia a New York e aveva… Che erano stati affidati alla mafia perché le conservasse, le conservasse dignitosamente. Memoria e quant'altro. E allora che cosa successe? Successe che questa signora ereditò, questa signora anziana, morta attorno al 2002-2003, ricevette in eredità dal padre che lei non voleva manco sapere come aveva fatto questi soldi, perché era santa donna che andava quattro volte al giorno in chiesa, una beghina come dicevano, nota beghin de beghin, ma beghina… E' la stessa nota… E' più o meno. Insomma, che cosa è successo? È successo che questa signora era assistita… Quando andava nella chiesa gli facevano cantare… Beghin de beghin… Beghin de beghin… Le litanie, su quel ritmo… Giusto, grande ritmo Fox dell'epoca, Fox, Volpino, Volpino, un titolo Volpino. Allora, che cosa successe? Successe che questo marito di questa famiglia che faceva da badante a questa signora anziana, figlia a sua volta del mafioso collega di Frank Tredita, aveva messo gli occhi, non è che faceva l'assistente sociale, l'assistente familiare perché per missione o per benevolenza, faceva l'assistenza domiciliare per soldi, perché aveva saputo attraverso voci che circolavano in paese, nell'ambiente. In questo c'era una barca dei quattrini per comprare la Banca d'Italia, come in effetti poi è stato. Anticipiamo, come in effetti poi si sono comprati la Banca d'Italia con questi soldi qua, ma poi lo diciamo dopo… Ma chi è che si è comprato la Banca d'Italia? Ma chi è che si è comprato la Banca d'Italia? Dopo lo diciamo… Ma quelli che ci guardano gli diranno questi sono passi scatenati… Vabbè, prendeteci per passi scatenati se volete, ma questo è pura verità. E noi ci abbiamo i documenti, non è che diciamo cazzate tanto per… Vabbè, non è che ce li abbiamo noi i documenti, ce li abbiamo a disposizione, in qualche posto in giro per il mondo c'è un server dove questi documenti stanno là. Esattamente. Quindi a scanso di qualunque nostra ritorsione contro noi, noi sappiamo le cose che possiamo tirare fuori in qualunque momento ai nostri cari amici che ci stanno molto tampinando da vicino. Esatto. Allora, quindi questo signore mi chiama, mi contatta e mi dice Oh, guarda che questa signora qua è andata a cercare i conti correnti e gli sono spariti 10 conti correnti e una ventina di cassette di sicurezza con dentro un sacco di cose. Di quale banca? Della banca del Santo Spirito. Pari attualmente a… Unicredit. Ecco, che sappia le nostre cose. In cui, a un certo punto, in parte c'erano i conti correnti ancora, in un certo momento. Poi a un certo punto gli estratti conti non sono più arrivati. Poi più le visite alle cassette di sicurezza non sono state più autorizzate. Ci sono tutta una serie di cose per cui praticamente il direttore della filiare dell'agrigentino dove stava questa signora che c'era questa anziana signora che è morta e praticamente si sono ritrovati quelli che sono stati nominati poi eredi dalla signora anziana che non aveva figli, non aveva eredi. Sono stati nominati questo marito e moglie. I guardi sono andati lì e non ci hanno trovato più un cazzo. Che era successo? Ma voi che volete? Hanno fatto intervenire la guardia di finanza, la quale ha dovuto riconoscere che effettivamente c'erano le cassette di sicurezza, che c'erano i conti correnti e da cui sono spariti titoli, cifre inenarrabili di denari che non so a dire. Tra l'altri ci si intende. Quando poi si viene a sapere che un certo signor profumo, con un profumo, quello inglese che si dovette dimettere, ti ricordi? Me lo ricordo perché ce l'ha scopata una strozzetta in intera. In intera. In intera. E nessuno dice niente. Con la benedizione del Papa per intenderlo. Allora, a un certo punto che è successo? Allora, qui è una supposizione ed è tutto molto legittima. Legittima. Molto legittima. E lì è possibile, quindi, che quelli che facevano parte dell'establishment della mafia a cui apparteneva il padre della signora defunta ultimamente, qualche anno fa, che magari hanno detto qui va a finire male, togliamo dal possibile ritorsione di qualche avversario o anche dello Stato, togliamo questi buoni del tesoro americani. Per cui li hanno fatti sparire loro. Ma ci trovavano in giro, erano dappertutto. No ci arriviamo, calmo. No ci arriviamo, calmo. Allora, lì che cosa è successo? Che non si sa adesso chi l'abbia fatto, il responsabile o meno, comunque hanno fatto sparire questa montagna di titoli e montagna di denaro. Però, in quello stesso periodo, c'erano vari personaggi che incredibilmente hanno fatto scalate assolutamente impossibili, normalmente. Certo. Perché per fare una scalata alla Banca d'Italia c'erano i soldi, ma tanti soldi. Certamente. E invece questo signor Profumo, che cosa è successo? A parte il fatto che poi è diventato pure ministro. Detto anche Santo Puzzo. Vabbè, insomma che cosa è successo? Che questo signore, a nostro modesto avviso, si è appropriato di parte, se non di tutto, del malloppo di questa signora qua, e anche perché ci sono dei riferimenti, adesso non sto a dire cose importanti, cose veramente rilevanti. Ma erano lì, si è presi. E questo signore poi, da presidente del Banco di Santo Spirito e poi da presidente dell'Unicredit, incredibilmente ha tirato fuori 240 mila miliardi di lire per comprasse l'Unicredit nel 95-98. Cioè, una cosa da allucinante. Allucinante. Cioè, non escono fuori quei soldi così a caso. Infatti, poi, a distanza di qualche anno, ascoltate questa che è troppo bene. Un giorno, la guardia di finanza, che non controlla mai un cazzo, scopre il casuale. No! Mentre stava. A un certo punto c'era il treno di pendolari, che da Milano andava a Chiasso, in Svizzera. No? Pendolari, che tutti i giorni andavano... Quello è un treno di pendolari. Però quel giorno, su questo treno di pendolari, cazzo, c'erano il cognato del ministro del tesoro giapponese e un'altra persona che adesso non mi ricordo più chi era. Sempre anche lui giapponese. No, coreano. Era un coreano. E, incredibilmente, in questo treno di trasfrontalieri, cioè di operai, di impiegati, di lavoratori, incredibilmente c'erano questi due, il fratello del ministro del tesoro... Era il cognato, non il fratello. Il cognato del fratello. Il cognato, il cognato. Il cognato del ministro del tesoro giapponese e un altro che adesso mi sfugge, un coreano. Con una valigia diplomatica al presso. Allora, arriva la guardia di finanza e dice, ma apri questa valigia, aprono la valigia e te trovano buoni del tesoro in tagli da mezzo miliardo e da un miliardo di dollari, per complessivi 134 miliardi e mezzo di dollari. Cioè, uno va a spasso con una valigia con 400... Come si diceva, passeggiando per Milano, passeggiando piano piano... Cioè, io dico, solo un demente che legge una notizia del genere può credere a una cazzana del genere. E' chiaro che le cose non stavano esattamente così. Insomma, però, vengono fermati. La valigia gli viene sottratta. Poi vengono su intervento del ministro del tesoro o di Berlusconi. Del compiacente Berlusconi. Del compiacente Berlusconi. A quali erano state trovate? Aspetta, aspetta, che ora ci arriviamo. Anche Berlusconi. Allora, tutto questo è vero, è vero, ci sono gli atti, ci sono i documenti. Allora, questo signore viene fermato, poi rilasciando per l'intervento dell'ambasciatore nipponico a Roma e soprattutto con l'intervento successivo del signor Berlusconi. Come si chiama Berlusconi? De nome? De nome? Eh. A! Come si chiama Berlusconi? A! Non viene in mente! Quello è Filippo! Ma non è Filippo! Come cazzo si chiama Berlusconi? Ha un nome come un altro? Non mi viene in mente, va bene. Il caro Berlusconi interviene e dice fermate tutti i buoni che poi arrivo io, me la vedo io. Che pensi mi? Che pensi mi? Il padre si chiamava Luigi, il padre di Berlusconi, lui non mi riesco a ricordare come cazzo si chiama. Il padre si chiamava San Luigi, dei Berlusconi, che ha fondato la banca, ricordiamo, con i soldi della mafia. Esattamente. Il papa è la stessa cosa comunque. Il Berlusconi, insomma, non lo mettere sempre sull'ilarità, la cosa qui è seria. Insomma, che succede? Che, quindi, la Guardia di Finanza sequestra questi 134 miliardi e mezzo di dollari, in buoni, che praticamente sono dei, dei, sono come dei fogli, fai conto come questo qua, chiusi in quattro, in quattro, così con la cera lacca e... E lo sputo. No, il corticino che lo chiude. I titoli al portatore dello Stato sono quelli. Soprattutto quelli da un miliardo di dollari. Ognuno. Allora, viene quindi fermato, questo qui viene poi rilasciato, viene sequestrato e la valigia con i 134 miliardi e mezzo di dollari in buoni del tesoro arriva a Roma. Allora, a distanza di anni, nel corso degli anni è stata domandata l'esito, non si sono più ritrovati, però nel frattempo interviene la Banca d'America, la Federal Reserve. Ma hanno i due tecnici, il giorno dopo, quando ancora stavano a Chiasto, arrivano i due tecnici e dicono, no, sono falsi. Così è d'amblè, sono falsi. Allora, a terra nera è presente che c'è un numero di matricola, la firma autografa del presidente dell'epoca del governatore. Chirografa, ci dice. Chirografa. La firma chirografa. Chirografaria. E poi anche la firma del governatore della Federal Reserve. E poi la firma dell'anima dell'immortaggio sua, ma tutto è falsa. Manca solo la firma del Papa. Tutto falso, tutto falso. Manca l'hanno guardata tutti. Allora, da tenere presente che sono tutte del 1932 o 1934. Perché? Allora, andiamo avanti, finiamo qui. Quindi poi arriva... Ah no, nel frattempo i tecnici della Banca d'Italia hanno detto, no, sono vere. Perché? Avevano visto, verificato tutte le varie cose. Avevano verificato pure la lacca, il timbro. Era tutto regolare. Però arrivano questi tecnici della Banca d'Italia della Federal Reserve e dicono, no, non è vero, non sono buoni. Aspetta. Arrivano a Roma. Dopo l'arrivo a Roma, nel frattempo Berlusconi dice, telefona a chi c'era allora? Bush? Sì, Bush. Bush, Bush. C'era Bush. Telefona a Bush e dice, oh, Bush. Guarda che qui abbiamo 134 miliardi e mezzo di dollari. Che dobbiamo fare? Dice, guarda, io te lo dà 60 miliardi per quell'affarino che te lo dà. Qua ce ne sono 134, facciamo la compensazione e me ne devi dare 70 a te. No? Al buon Bush. Al buon Bush. A che? Allora, a oggi non si sa che cazzo di fine abbiano fatto 634 miliardi e mezzo. Però, nel frattempo, incredibile, un tizio, un tizio, un tizio, ascolta, ritorniamo all'inizio, un tizio che si dice successore, erede di quello che aveva comprato del Kuomintang i titoli nel 1932-34 per finanziare la guerra civile in Cina. Sì, ma c'è un altro nome del Kuomintang? No, per finanziare la grande marcia. La grande marcia, va bene. La grande marcia, diciamo la grande marcia. Ma c'era un altro posto, era un nome geografico. Ma va tenuto presente che, all'epoca, la Cina era preda di scorribande di personaggi piuttosto strani che si chiamavano appunto i signori della guerra. E questi signori della guerra, in un modo o nell'altro, hanno partecipato di questo sacchietto. Certo, ma certo. Allora, per tornare a noi, uno che si dichiarava erede di questo che aveva comprato il titolo del tesoro nel 1934, si è affacciato a New York e è andato dal procuratore, come cavolo si chiama in America, non mi ricordo mai. Il procuratore capo della corte di New York. Vabbè, non mi ricordo. Viene imbastito un processo e fra le altre tante cose di cui abbiamo detto e di altre che non abbiamo detto perché talmente ci risolverebbe tranquillamente scrivere dieci romanzi di James Bond sopra, perché c'è mezzo mondo con il governo. Solo che James Bond non riesce mai a impossessarsi delle monete, questa è la differenza. Con grave scassatura della regina. Allora, tornando a noi, questo qui va in tribunale e pretende il risarcimento dei danni e lo pretende anche contro Berlusconi, che diceva quei 134 miliardi e mezzo c'ha Berlusconi che ha intercettato. Sono i miei, me l'ha dato il mio bisnonno. È naturalmente. Per cui Berlusconi, il processo è andato avanti nel corso degli anni, a partire dal 2001, nel 2010 è stato condannato a 20 anni di carcere il signor Berlusconi. Berlusconi, in America. In America, per cui il sabbiette viene in America. Non va in America. Cioè, perché non vai in vacanzo in America? Perché preferisco andare in Ucraina. In Portugale. Capito? Allora, per tornare poi e concludere, diciamo perché se no ci dilunghiamo troppo, allora, di questi titoli del tesoro, dei buoni del tesoro americani del 32-34, ascoltate. Mi riferisco a quello del... Allora, a Viterbo, 4-5 anni fa, ne furono trovati, sempre dalla Guardia di Finanza, in varie operazioni di vario genere, circa 6.000 miliardi. 6.000 miliardi. Ma a Matelica, vicino a Matelica, ne furono trovati addirittura 14.000 miliardi di donne. E fai vedere perché questo era nascosto a Matelica. Eccolo qui. No, dillo te, dillo te. E' il bello. Mi sono sancato, dillo te. Un capo dei servizi segreti italiani disse a Scotti di far sparire Mifsud. E dov'è sparito? Nel caso, a Matelica. Ma guarda che strano, eh? Mifsud. Chi sei Mifsud? No, bisogna dire una cosa. Allora, bisogna dire una cosa. Quando furono... Io non lo dico come verbo assoluto, ma è una supposizione che secondo me c'ha molte fondamenta. Quando il signor Inigo de Loyola, diciamo che cazzo c'entra, c'entra come? Dopo lo vedete. Inigo de Loyola fu, diciamo, si mise in testa di creare la sua compagnia del Gesù. Del puo Gesù. E che fu rifiutata da ben due papi prima del... Si avevano rifiutato il mercatismo. E quando alla fine Paolo V, se mi ricordo bene, Borghese, Borghese, che era una famiglia di... Non di mecenati, come dicevano, ma di ba... 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 balordi. Baciami i bambini. Balordi. Di balordi banchieri. I signori banchieri, Borghese, che facevano anche, oltretutto, la raccolta delle tasse. Non solo. Ma c'è anche la raccolta dei rifiuti per conto di Virginia Laci. Allora, il signor Inigo de Loyola, a un certo punto, viene accettato da Paolo V e fonda la sua compagnia. Lui e gli altri cinque infami, uno più figlio di puttana dell'altro, fra gli altri c'era un certo signor de Bobadilla. Mai sentito? Cazzo! Bobadilla, una famiglia nota in Spagna per vari motivi, soprattutto per essere della santa inquisizione. Sempre, sempre. Ricordiamocelo sempre. Inquisiamo e saremo felici. Il quale, il quale aveva dei contatti molto importanti dove... vediamo... A, 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 marsilia. Matelica! A Matelica! E certo! A Matelica, perché a Matelica c'era una grossa pattuglia di gesuiti che avevano costruito il tempio, avevano costruito mille altre cose, c'era una università lì vicino a Urbino che era controllata da loro, che ancora c'è per cui tutta una serie di interessi per cui questa focalizzazione importante di questa località delle Marche delle Marche Basse Matelica Urbino e Macerata Macerata che si chiama Marche Basse lì c'è un paese adesso non mi viene in mente il nome esatto che è praticamente controllato dagli eredi degli eredi di un certo Silveri Silveri aspetta Silveri e poi è Silveri Conte Silveri guardatelo qui è qui hai capito non l'hai capita è qui facciamolo vedere bene è meglio facciamolo vedere bene ecco qua no dall'altra parte ascolta ecco qua Silveri gentiloni che quando serve lo chiamano e rompe i coglioni ma è gentilissimo è nuovo gentilissimo disponibilissimo si ma passiamo dei suoi antenati uguali come anzi quando serve li chiamano e chiamano e sono all'ordine arrivano lì si mettono sugli attenti sempre e agiscono e agiscono e agiscono esatto avete capito cosa significa allora la summa di tutto questo in euro o meglio in dollari è l'equivalente di circa 100 mila miliardi di dollari ma 100 mila miliardi di dollari del 32 che oggi andando a riscuotere quei buoni in tesoro ce devono da un milione di miliardi di dollari come minimo per non dire 3 o 4 che tanto non te li daranno mai quindi e l'altro che dirgli a questo dove è andato a finire il debito pubblico americano eccolo lì 3 o 4 milioni di miliardi di dollari per il tramite per cui basterebbe se uno fosse cioè fosse un governante con le palle no se fosse un guadale minimamente decente e dire guarda un po' ah caro Trump ci abbiamo quello che aveva tentato di fare Berlusconi ma farlo in maniera seria dice guarda poco noi ci abbiamo circa un milione di miliardi di euro mettiamoci d'accordo che vogliamo fare? ti sputtano a vita per tutto l'orbe terraque che non serve a niente oppure mi dai quello che è mio una piccola transazione allora cari amici siccome stiamo qui per parlare di cose serie intanto recatevi tutti a Matelica a Matelica a rendere omaggio che è una bellissima cittadina a rendere omaggio a questo personaggio qui che è lì che si aspetta tutti i giorni in piazza per farsi baciare la mano e allora io continuo nella lettura perché queste sono le opere fondamentali altro che preghiere e litanie e litanie o imitazioni di Cristo queste sono le cose che vanno lette questa ad esempio è un'altra cosa che è stato un articolo che è stato scritto da Indro Montanelli il 19 settembre 1974 che io per la vostra edificazione morale vi voglio rileggere violenza tra parentesi carnale un bambino passeggio per strada d'un tratto indicandogli un tizio dice al padre quello lì l'altra sera si è messa a letto con mamma come fai tu carino la donna interrogata non smettisce ma questo mi ricorda certe vicende recenti soprattutto di preti che si mettono a letto con i bambini che non smentiscono ormai non possono più ah quello che hanno fatto vedere le iene l'altra settimana l'hanno arrestato si l'hanno arrestato ieri meno ma ogni tanto l'arrestano qualcuno poi dice fai inculare dagli altri carcerati vabbè la donna interrogata non smentisce dice che ricorda vagamente perché aveva preso dei tranquillanti io quindi tranquilla mi faccio incappettare capito troppo carino e l'era parso un sogno un sogno manco fosse San Giuseppe che gli appare il sogno il cangelo Gabriele soprattutto quello che apparve alla 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 donna certo il fatto rubricato come violenza carnale finisce in mano ai carabinieri e meno male che finisce in mano a qualcuno non è una favola è una notizia di cronaca della quale il particolare che più si stupisce non è la delicatezza del violentatore d'altronde quando io violetto una che c'è sta e appunto va benissimo così né la propensione dell'involontaria involontaria ad ultera ai sogni ebbene i sogni a mentre i sogni a unire in filo né la buona fede del marito ma la data di provenienza e questi sono i punti fondamentali su cui bisogna sempre nella vita soffermarsi che dici è accaduto a Mazzarino provincia di Cattanissetta Sicilia infatti Mazzarino era di Mazzarino e certo ti scherzi il cardinale Mazzarino quello di Fidati dei cardinali e vedi dove finisci ma che succede in Italia questo nel 1974 hai capito come succede nella patria del cardinale Mazzarino che fu il grande di Francia il grandissimo molto più del re e questo ultimo che vi voglio leggere a conclusione di questa bellissima trattativa o trattazione di cose italiane Watergate di tutto il drammatico caso del Watergate un particolare ci sembra su tutti esemplare la lettera con cui Nixon il grande sconfitto ha annunciato le sue dimissioni caro signor segretario con la presente rinuncio alle mie funzioni di presidente degli Stati Uniti sinceramente Richard Nixon così farebbe non è così finisci poi raccontiamo la verità finisci poi raccontiamo la verità non diversamente si sarebbe comportato il grande scipione l'africano quindici parole in tutto oltre la firma come pitafio del più clamoroso caso politico del dopoguerra vorremmo vorremmo proporre questo modello di sobrietà ai nostri uomini politici se non fosse del tutto inutile ecco prima di tutto perché in 15 parole loro non riesce nemmeno a chiedere un bicchier d'acqua è questo il punto secondo perché le dimissioni essi non le daranno mai è il 13 agosto 1974 allora la storia di Nixon è una storia di soldi sempre una storia di soldi di gestione dei soldi di gestione della Federal Reserve di chi gestisce la Federal Reserve se il presidente della Federal Reserve o il presidente del Parlamento o il presidente degli Stati Uniti e così via e soprattutto perché aveva fatto una riforma che non andava così bene come avrebbero voluto i bancari capito tant'è che poi dopo hanno fatto una serie di modifiche è inutile dirle basta dai chiudiamo vabbè io me ne voglio leggere un'altra e con questa concludiamo Gatto a Roma il partito comunista italiano ha riempito i muri di manifesti commemorativi del poeta Alfonso Gatto che aveva lasciato non ha niente a vedere con il quasi ministro Grillo sono animali differenzi generalmente Gatto mangia Grillo che aveva lasciato il partito nel 1951 con una lettera rovente inviata a Togliatti il comitato centrale gli aveva risposto per mano anzi per pennello di un suo membro illustre Renato Guttuso che a gloria dei mille aveva composto la grande tela Ponte Ammiraglio con personaggi attualizzati il Sicheiros del partito comunista italiano aveva messo se stesso tra i caduti gribaldini liberatori e progressisti il trotschista Gatto l'aveva effigiato invece nei panni dell'ufficiale Borbonico Ottuso e Reazionario ma ora hanno deciso di riappropriarsene e possono farlo impunemente Gatto è morto e non può più parlare ma finché parlò parlò fino all'ultimo su questo giornale 17 marzo 1976 quindi è Alfonso Gatto che fu io mi ricordavo che era un letterato non mi ricordavo che fosse ministro no non è mai stato ministro è stato un poeta il cui ricordo bene affiliato nella quella fase dell'egemonia culturale del partito comunista italiano in cui tutti per denaro da trotschista non poteva essere allineato a lungo e a berlingueva ma sono tutti lì erano tutti lì per denaro per denaro per denaro per vir denaro e quindi anche questo ci è servito per dire cari amici attenti ai gatti e attenzione ancora di più ai topi ai grilli ai grilli ai grilli ai topi perché bisogna vedere che il gatto mangia i topi e i topi mangiano i grilli o no? si direi un'ultima un'ultima battuta qui per concludere droga sui muri di Milano c'è un proclama di lotta alla droga arma delle forze reazionarie non sapevamo che a spacciare bariquana e cocaina fossero parroci carabinieri e agenti del SID stipendiati da Agnelli Cefis Petrilli e magari dalla CIA ma soprattutto non comprendiamo che bisogno ci sia per combattere la droga di darle una connotazione ideologica o non basta dire che fa male è del 1 aprile meno la 176 e ritengo che sia un ragionamento molto importante anche perché oggi la droga dilaga e viene distribuita dai migrantes che loro signori vogliono che rientrano in Italia perché hanno l'incarico sono le risorse appunto di affidare a loro il mercato della droga so long laudetur priapus e l'azione di affidare di affidare a loro Grazie a tutti.